Ieri pomeriggio, nella splendida cornice di Palazzo Mongada, è stato presentato davanti ad una gremita affluenza di persone il libro Viaggio in Sicilia di Giussi Battaglia. Giussi è una giornalista palermitana riscoperta si cuoca durante il lockdown del 2020, volto noto di Food Network grazie al format Giussina in cucina. Sul canale 33 e in streaming su Discovery Plus le porte della cucina di Giussina si aprono, dalle ricette antiche dei borghi dell'endroterra a quelle della sua Palermo e di tutte le nuove province della Sicilia. Giussi riprende il viaggio culinario ispirato alla sua amata regione ricca di profumi, sapori e colori. Insieme a Giussi sono intervenuti Cinzia Militello, delegata AIC, associazione italiana cuochi di Caltanissetta, e il maestro pasticcere Lillo De Fraia, che ha realizzato il rullò, dolce tipico della tradizione nissena. Sono qui a Caltanissetta perché ho deciso che questo libro doveva un po' rappresentare tutta la Sicilia, le nuove province che davvero per ogni provincia c'è una peculiarità di cibo diversa. Quando mi dicono, vabbè prima o poi finiranno queste ricette siciliane, io con un pizzico di orgoglio dico no, se volessimo non finirebbero mai e quindi sono molto felice perché per me è un libro un po' più maturo, è un libro che è arrivato dopo il successo del primo e spero che la gente possa amarlo così come ha amato il primo.